ciao ciao a tutti come state spero bene oggi qua c'è è uscito un timido sole perché ha cominciato il freddo bello 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 ci sono otto gradi questo video non era proprio proprio in programma ma devo rispondere a modo mio a un paio di persone allora prima cominciamo con un video che ho visto ieri sera della falsona falsa 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 hanno esaurito argomenti hanno esaurito bei video smr non ne parliamo ormai ma il bello è che lui dici scrivetevi in massa in massa ad un canale che lei non calcola minimamente non fa video e vabbè ma le offese ieri sera le offese come fate a farvi offendere così e quei ditoni che continuava a mostrare continuava a mostrare il dito medio ma sai dove te lo puoi mettere e il mukbang c'è per un nanosecondo ho pensato di essere tipo in germania così perché ho detto una italiana che non sa mangiare gli spaghetti non è fieno chiara devi avvolgerlo nella forchetta se non ce la fai ti aiuti col cucchiaio sotto e mangi non puoi pescare gli spaghetti a mo' di forca come se fosse fieno e infilarli in quella boccuccia delicata poi il marito cade si uscione una gamba e cosa facciamo ma se io continuo a mangiare e si e si e ci mancherebbe altro che lasciare gli spaghetti per ma ma lei è perfetta praticamente il marito ha detto che è perfetta perché sa fare una lavatrice wow e io che tutte le volte devo andare su internet per vedere come si mettono i panni sporchi dentro l'oblò si mette il detersivo e si schiaccia un bottoncino tutto qua è perfetta lei ha detto se non fosse per il peso ma come non te ne è mai fregato niente del peso ma non deve essere quello che ti un limite quello che non ti fa essere perfetta non è il peso chiara è la tua arroganza la tua cattiveria che ormai sta esplodendo da tutti i milioni di pori del tuo corpo è la cattiveria non il peso perché si sa si vede che stai dimagrendo anzi diamo il benvenuto all'undicesimo mento dichiara si sa è risaputo che si dimagrisce con mezzo chilo di spaghetti non dico neanche alla carbonara perché sarebbe un insulto è la torta la famigerata torta di cui lei si vanta no non è la tua perché tu fra le mille 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 cavolate che compri non ti sei mai presa uno sbattitore elettrico ma di quelli a mano costa 19 euro tu continui a fare dolci torte tiramisù e tutto con il mini pimer monti la panna che resta acquetta e fai dolci così e poi tuo marito deve bloccare le live perché ha degli appuntamenti urgenti col water ma lei è perfetta ormai ormai non riesce neanche il video non riesce a contenere la sua la sua pienezza di sé e non parliamo poi della visita al nipotino titolo clickbait perché non si è vista la visita al nipotino falsa falsissima ma la cosa proprio ridicola è che uno gli ha detto come mai nelle live ti fanno tutti i complimenti mentre sotto i video i dislike non si contano più perché è arrivata più di mille dislike e aveva 400 like vabbè ma sappiamo che a lei questo non frega perché a lei frega solo monetizzare ma lei ha detto che non scrivono perché hanno paura di essere offesi ok io sotto i suoi video vedo gente che gli scrive buon appetito bella ricetta ma nessuno che gli offende nessuno sotto che replica o che offende perché ti hanno fatto un complimento falsona e a me se non concesso molto non concesso che sia vero quello che dici ma allora perché non metterti un like tutte 79 mila persone che ti amano perché non mettere un like solo un like è anonimo lo mettono e nessuno vede chi sei tu hai il pirlone Tobaldini alias Sdentolo che scrive solo nei commenti degli altri video non scrive mai sotto i tuoi ma adesso sicuramente che l'ho detto un paio di volte vediamo se la sua cerina o provolino o provolino scriverà come Tobaldino Pirlino per me puoi scrivere quanto vuoi e volevo dire anche a una signora idiota molto idiota che il lavoro qualsiasi esso sia non va toccato non va deriso cos'è? ti sei stancata di fare i video contro i bambini con problemi? perché ricordiamoci tutti che questa signora faceva i video contro un bambino autistico lo prendeva per il di dietro lui e la sua sorellina che non c'è più e adesso pensi di poter fare di essere all'altezza di fare un video un video perché non faceva neanche ridere faceva solo piangere perché io non mi sono mai presentata in video in quelle condizioni tu sì vabbè perché sappiamo tutte che avevi le mascherine da scambista per cui tu avrai anche l'abbigliamento adatto alle mascherine che portavi siccome non ti caga più nessuno hai provato a virare ma ti sbagli di grosso perché io non farò né il tuo nome e ne rinominerò più il video anche a te come l'altro Pirletti ti do due minuti di due minuti che poi presentarsi così almeno presentati bene con quelle due prognette dove vai con quelle due prognette dopo due secondi siccome io veramente ho persone che mi vogliono bene me l'hanno segnalato e loro erano arrabbiate e io ridevo 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 ma che ti arrabbia fare è una povera idiota perché io non monto scatole per lavoro sai la mia azienda per contratto aiuta i clienti più grossi che gli forniscono il 70% del fatturato ma tu non puoi capire queste cose perché tu cosa fai tu metti solo una mascherina e prendi giro i bambini brava brava perché ci vuole fegato e ci vuole determinazione ci vuole fatica a prendere in giro un bambino e non sai neanche fare un video parodia non sai neanche farlo almeno allenati prova provi ad imitarmi e poi fai un video parodia puoi farne quanti vuoi sei libera liberissima di fare tutti i video che vuoi come sono libera io sei libera anche tu ma non prendere in giro il lavoro idiota per me il lavoro è sacro anche se fosse montare scatole come dici tu in quel modo disprezzante in cui l'hai detto almeno io non ce l'ho grazie a Dio l'ho cercato ho bussato a mille porte e qualcuna ha aperto prova prova anche tu metti giù le maschere copriti perché sei ridicola alla tua età così non mi sono mai presentata così se non mi faccio vedere il motivo c'è il motivo è importante per me e di certo non sono coerente e per adesso non se ne parla neanche se avevo se avevo un vestito un po' più scollato di questo un po' più pazienza ma non in quelle condizioni vergognati ma vergognati veramente e sotto il tavolo dove facevi i video che mettevi il bambino mettiti e con questo chiudiamo parentesi dell'altra pirletta e niente così visto il video l'arroganza ormai non ha no limits ho visto anche il video delle zucche funghi eccetera eccetera ma io vorrei sapere ok sono soldi tuoi ok puoi farne quello che vuoi ma siete senza denti in quella famiglia a parte il suo cerino ma invece di spendere centinaia di euro in zucche e funghi che vorrei sapere dove te li metti ma cominciare a sistemarsi i denti almeno uno almeno invece di dire sempre che avete fatto il preventivo come la cucina arriva arriva devono ancora vederla comprarla perché vanno a dare il primo conto a fine anno ma quanto falsa sei e poi dico ha detto ieri haters uguale ignoranti no là proprio avevo le lacrime cioè non scrivi una frase in italiano corretto neanche se ti sparano non riesci a scrivere un titolo giusto perché li sbagli tutti il muarito non sa neanche parlare non avete una nozione base di cultura di politica di quello che sta succedendo in Italia no andare a votare c'è il covid ma per andare a comprare zucche e funghi non ce n'è covid non ce n'è non ce n'è covid per le zucche e per i funghi brava 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 e poi la scenetta ha chiamato sua figlia e gli ha chiesto cinque minuti eh ci mancherebbe altro per mia figlia questo è altro chiudo la live quando gli ha chiesto invece di mettere la testa a posto che Giuseppe è scappato a gambe levate e si è portata a casa dopo una settimana un altro non ha fatto la stessa cosa per mia figlia questo ed altro gli ha detto ciao e se ne è andata con lui ha messo la zampa dentro la porta dicendo che aveva perso le chiavi e da là non ha più non si è più spostata la zampona l'ha lasciata là eh già sono le tre e mezza ho già preparato tutto oggi tra mezz'ora parto non vado a montare scatole marroni o blu oggi torno a fare il mio lavoro mi tessile vediamo se sono arrivate le nuove mascherine perché avevano perché avevano il progetto di di farne eh come dire perché fino ad ora ne abbiamo fatte eh su ordinazione di clienti però loro volevano comprare del tessuto farle ehm per loro stessi e venderle è una bella idea è una bella idea in questo periodo vediamo cosa c'è da fare oggi così così che comunque come ho già detto se non fosse per gli orari che veramente era dura a me piaceva l'altro lavoro perché come ho sempre come vi ho detto l'altra volta mi gestivo io il tempo sapevo io dovevo fare i nove dieci carrelli li facevo e mi prendevo le pause quando volevo qua invece non puoi qua è rigida la cosa eh vabbè ma non si può avere tutto eh ok cosa fate come è il tempo ho sentito mia sorella e mia cugina ieri e dicevano che là faceva ancora caldo c'erano ancora più di 20 gradi ecco ce ne erano 9 ieri oggi 8 però è uscito il sole però hanno detto che a metà settimana torniamo ancora sui 20 19 22 eh vabbè faccia quello che vuole come Dio comanda tanto non è che si può andare contro il tempo così ho comprato un po' di cose e sono arrivate da action action dei nuovi prodotti per i capelli delle maschere e poi vi farò sapere ma non c'è in Italia per cui mi piacerebbe tanto fare un giveaway sì l'ho detto giusto ma la cosa che mi piacerebbe farlo per Natale magari con delle maschere sarà che io le adoro ah non vi ho fatto vedere aspettate aspettate un attimo aspettate un attimo a aspettate un attimo